Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro video Oggi una pin-in-pon vuole fare il bagno nella lavatrice Perché aveva un po' i vestiti sporchi Ma non ce li può togliere quindi Deve entrare tutta lei nella lavatrice Oh mio Dio ragazzi La pin-in-pon è diventata piccola Ma come abbiamo fatto? I capelli sono rosa Se lasciatevi piacere, mettete un bel like e iscrivetevi al canale Ciao a tutti